Il sacchetto biodegradabile e aggiungiamo compostabile, perché dire biodegradabile non è sufficiente, compostabile quindi idoneo ad impianti di compostaggio, al trattamento di compostaggio, sicuramente aumenta la qualità dell'umido. Diciamo che noi facciamo da 3-4 anni, il Consorzio Tirano Compostatori fa da 3-4 anni indagini merceologiche sull'umido e verifichiamo che l'umido contenuto in un sacchetto biodegradabile compostabile è 5-6 punti, fino a 7 punti più alto rispetto ad un umido contenuto in un sacchetto non biodegradabile, quindi il classico sacco in polietilene, sacchetto in polietilene, quindi questo è fondamentale, 5-6-7 punti che non sono dati dall'appeso del sacchetto, sono dati proprio dall'abitudine del cittadino a mettere più organico in un sacchetto biodegradabile compostabile.